Oggiungi, a tutti per voi! Vedete che sbagliato! L'attore preferito? L'attore preferito! Jackie Chan Ci addentriamo un po' nell'ambiente calcifico Per quanto riguarda l'unico calciatore nella storia del Vadova che è stato così tanto amato senza aver giocato mano a parte di maniera Come te lo spieghi questo affetto, questo amore incondizionato? Il documento dello spiegare, comunque per me è una bella cosa Contento di tutto questo affetto che mi portano in Polonia Come ho detto prima cosa che ho fatto, presento i debiti di voi Comunque vi voglio far sapere che senza di loro dedicato mi sarebbe stato quello che è adesso Ehm... Bene, vi ringrazio e vi dico di continuare Con loro è un po' la parola della notte Insomma, con te lo sento un po' nella maggior parte dei tuoi coselli Su Facebook vi interagisci molto con i tifosi Vediamo che magari, non di risponditate però, l'apprezzamento, il like Così detto, lo metti? Sì, quello vuol dire che apprezzo quello che scrivo Alcuni mi dicono, mi commenta C'è queste cose che non posso commentare Però c'è sempre... Io raccomando questo è molto importante per te, non per la carica Sì, i dolori sono molto importanti per me Ma non solo anche per me, anche per la scuola Perché il dolor aiuto Conoscendere il campo Estando in panchina, stando tutti insieme E' una cosa anche... Tu, sempre guardando un po' a peso, ti direi un po' a scuola Penso che tu sbiate le domande, invece che sbiate te Tu, anche se come foto profilo Ho delle foto con i tifosi, le messe con le bambine L'ultima è quella a cavallo La... Probabile Nuova mascotte del calcio padua Quando Luca Scuola, il deposo Mi ha pospudato, ha ideato questa mascotte Spera di vederla fare il giro del campo E soprattutto, non so che tu lo sai Ma è ispirata a un grande singolo della città di Padua Che si è attamelata, ma è stato qui davanti alla partita di Sant'Antonio Ti piacerebbe, da giocatore proprio, entrare in campo sapendo che c'è questo cavallo che fa il tiro della pista? E' certo che mi piacerebbe Quindi fai il tipo per questa mascotte Lo faccio il tipo per questo, sembra una... Sarà come, sai... Alla Lazio quando hanno... L'Apila Si, l'Apila che... E' il tipo per questo Sarà contento allora Gianluca Senti, tu hai ricordato prima anche il nostro Ampelio Ami le tante arombe, no? Si Ami molto E ti senti, hai detto anche tu Come sentiti di assomigliare a questo tipo di animale Però, permettimi Una cosa non ne assomiglia niente La velocità è per fortuna Va bene, allora, quello è tipo un'altra cosa Solo per dirti La vita privata e la vita del lavoro sono due cose ben diverse Assomigliare a una altra lunga Vuol dire... Vuol dire... Quando ti fai facendo la vita del lavoro E' il mio papino di vita Io penso... Anzi, l'Apila Mi farà un servizio di vita Però abbiamo visto l'altro giorno Parte di Ambreseo C'è un interesse di Pellizzoli Tu sei passato davanti E hai fatto la scimmia Eh sì, l'ho fatto la scimmia E l'ho preso in giro E l'ho preso in giro Eh sì, perché fa la scimmia Ma com'è nata questa cosa della scimmia? Ah beh... Solo per scherzare Eh... E poi se ti scherziamo... Parlando con te hai detto di essere molto curioso Tu lo sai che si dice curioso come una scimmia? Eh... Qui non lo sapevo E io ti ho fatto la domanda Perché curioso come una scimmia? Eh... Era un modo di dire Perché le scimmie sono curiose No... 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 Ecco... Eh... Quindi, visto che sei un po' curioso E' curioso di sapere anche un po' Cosa sarebbe successo a Calcio Smokin Sei contento delle sorprese? Sì, sono contento Sai... Non... Sì, volevi Quando... Vedi... Vedi... Poi sappiamo che hai intanto qualche parolina di Padovano Eh... Ci dici qualcosa che ti hai detto? Dio, proprio Bravissimo Bravissimo No, no, stai fermo un po' Non vuoi scappare L'ultima Sì Eh... Tu hai un intervista raccontato che il tuo idolo era Mondigno Sì E lui ha detto una frase che ti è rimasta molto impressa Sì Devi avere sempre voglia di giocare Sì Quanto ti carica una frase del genere in questo momento in cui stai trovando poco spazio? Allora... Quello mi carica tanto perché avere la voglia di giocare Anche quando sei in banchi hai sempre la voglia di giocare Se ti ricordi di una partita che abbiamo giocato in casa quando sono entrato Scivolavo di 5 minuti perché la voglia era così carica che non riuscivo neanche a stare in piedi Allora, visto che Ronaldini è il tuo idolo e sappiamo che lo inviti anche in qualche cosa Io adesso invece posso essere bastati con la palla Eh, adesso vediamo Vai, vai, vai E la città è che ci delizzerai con qualche numero Veloce Grazie 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 Grazie